ciao ciao ragazzi ciao come state allora è un bel po' oramai che non ci vediamo e ci mancate e quindi volevamo metterci in contatto con voi perché insomma la nostra cooperativa anche se non ci vediamo insomma in qualche modo c'è nei nostri cuori e sappiamo che state lavorando molto a scuola comunque non a scuola con la scuola da casa e invece noi ovviamente con i nostri attrezzi le nostre cose dallo schermo è difficile poter lavorare insieme mettendo le mani e quindi noi ci sentiamo così ci sentiamo con questo saluto che vi lanciamo dai computer speriamo di trovarvi tutti bene e appunto volevamo esservi un po' vicini e abbiamo pensato come possiamo fare questo come possiamo ricevere o far fare ragazzi delle cose e come sapete ci sono tante altre cooperative che stanno funzionando che stavano funzionando prima di tutto questo e ci siamo messi d'accordo tra di noi e abbiamo immaginato e creato un concorso un concorso per tutte le cooperative per creare una specie di logo non il logo quello che avete già fatto che quello resterà ma una cosa per tutte le cooperative quindi insieme a questo saluto vi mandiamo un video dove vi si spiega cosa bisogna fare sostanzialmente è molto semplice dovete creare con delle cose che avete a casa con qualsiasi oggetto vi venga in mente le lettere che compongono la parola cooperativa fare una foto di questa lettera e poi ci penseremo noi a tagliarle e a metterle insieme in una parola con i pezzettini arrivati da ognuno di voi questo per dare il senso sempre della cooperazione della collaborazione che ognuno di noi ci può mettere un pezzettino per fare qualcosa insieme questo lo facciamo sperando di rivederci presto e nel frattempo speriamo di ricevere le vostre foto quindi fateci sapere come state e mandateci queste creazioni vostre per poter fare questo lavoro insieme che dite? non serve che facciate tutte tutte le lettere della parola ne basta una o due quelle che volete quelle che volete e siamo curiosi di vedere che cosa userete per farlo aspettiamo le vostre foto ragazzi fateci sapere come state ci mancate tantissimo speriamo di rivederci presto dai a presto ragazzi a presto ragazza ciao grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti